Grazie a tutti. Nel segno della nostra tradizione e della tutela dei minori e della famiglia. Oggi le vere discriminate sono le famiglie con figli. C'è il diritto del bambino avere un papà e una mamma, ma non esiste il diritto di due omosessuali a poter avere un bambino come fosse un oggetto del desiderio o del possesso. Questa battaglia è una battaglia di civiltà e mi auguro che tutte le forze politiche siano coerenti con i valori che dichiarano di rappresentare.